Noi abbiamo la possibilità di decidere a che affidare il nostro futuro. Noi vogliamo tornare a credere, a sognare e soffermersi ogni giorno. Abbiamo bisogno di qualcuno che conosca i nostri figli, le nostre strade, i nostri sogni più belli. Abbiamo bisogno di far vincere la speranza. La nostra città ha tutto quello che le serve. Basta solo crederci un po' di più. Possiamo essere uniti? Più forti. Più fieri. Noi. Possiamo essere liberi. Per la mia città, per Ponte Cagnano Faiano.